come fare il primo video su youtube oggi andiamo a caster fill bene ragazzi in questo momento l'obiettivo è su questa sbarra qui andare fino ad un certo livello e tornare indietro vediamo chi ce l'ha ancora ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti questi mattoni qua, vedete i colori dei mattoni, queste cose qui. E per le barche. Pazzesca questa zona, poi per le giornate di sole come oggi si può andare in barca. Non so se l'avete capito. E no, è bella, è bella. Ragazzi spero il video vi sia piaciuto. Questa era Castelfield di Manchester. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.